Buongiorno a tutti. A foste una noapte faina, aspettiamo a uscire soarele, speriamo che oggi a uscire soarele, ma credo. Torniamo a presto e vediamo ciò che facciamo ancora. Super! Si am facut poza. E focul nostru. N-am mai facut de. M-a intis, m-a tras. Dupai a venit ortopedul. Si ala nu stiu ce, dupai m-a... Fractura. Si, non stiu, non stiu, non stiu, non stiu. Ma hai dupa cum arata, brata, pai ta, e asa, interventia e cu tare, ti ne dupai zile, ti ne dupai, 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 ti ne dupai. Ma si vedem cu piciorul in tavana, agatat cu greutatea. Ma, no, no, non stiu. Ma, no. Ma, no, non stiu. Ma c'è una casa più grande? Ma ho, più. Ma, no, non stiu. D'accordo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E 2500 minuti, o segeata. Am fost la Golf, deci o zi intreaga. Grazie a tutti. 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 a tutti.